E' morta Ucciso E' morta 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 Contatto! A salire! UAV alleato in arrivo. UAV alleato in arrivo. Approvvigionamento in arrivo. Outrider eliminata. UAV a disposizione. Corretta rinforzata schierata. UAV di disturbo in attesa di ordini. Contro misure elettroniche in atto. Perimetro stabilito. Guardate il segno a piedi. 50% di autonomia. Tempo missione CUA via al 50%. Energia al 5%. UAV rientro. Grazie di tutto UAV di disturbo in attesa. Serap eliminata! UAV in arrivo. Ecco fatto. UAV alleato in arrivo. Nostalgia-la. Upple. O-ople. Rien. 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 Preso! Uccisione confermata! Successo! Approvvigionamento in arrivo. Approvvigionamento in arrivo. Ora siete costretti a vincere! UAV alleato in arrivo. Viaje! Viaje! UAB in arrivo Ottimo lavoro CDP, nuovi ordini in arrivo Eh? Abbiamo già finito? Un organico non può fare il lavoro di una macchina Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli 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 a cura di QTSS Sua via alleato in arricchio. Sua via alleato in arricchio. Minaccia risolta! Chiorenza disattivata! Steso! Perfetto! Tacom! Battery richiede UAV! Durante la virata, i sensori acquisiranno l'obiettivo. All'UAV resta metà serbatoio. UAV in allontanamento. UAV ostile in sorvolo. Firebreak eliminato! Eliminato. C'era po' a terra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.